L'interazione tra voce, musica, tecnologia e immaginazione è uno dei temi principali dell'arte contemporanea. Sussurra Luce, la rassegna di concerti, performance e installazioni che da due anni anima lo spazio Miura, ha indagato il tema con un convegno che ha introdotto l'inizio del programma concertistico 2024. L'idea è quella di anticipare il programma concertistico di Sussurra Luce con un momento di riflessione che non vuole essere accademico, seminariale profondo ma coinvolgente. L'idea della voce è soprattutto attanagliata e modificata dagli strumenti e dalle tecnologie nuove e che però paradossalmente, come tanti interlocutori invitati ci diranno e ci dicono, ci riporta ad un'arcaicità, a quasi una preistoria dell'umano che risiede nella nostra voce. Il primo appuntamento concertistico della rassegna è fissato per il 27 giugno con l'esibizione di Silvia Tarozzi. Il programma continuerà poi a settembre con altre tre date. Mi piacerebbe segnalare Price, che è un artista austriaco, che in effetti espande un po' il concetto di concerto e lo porta più all'interno della performance. Bosetti, che farà un concerto particolare, un nuovo lavoro, sempre qua a Spazio Mura. Abbiamo invitato persone di provenienza diversa, da artisti, ad accademici, a poeti, a esplorare il tema della voce, il suo rapporto col suono e col testo, per inquadrare quello che poi si sentirà e si vedrà negli appuntamenti concertistici e nelle installazioni qui a Spazio Mura nei prossimi mesi.